Musica Sono Gennaro De Lucia della De Lucia Trasporti SRL La diciottesima serata di gala di questa sera ci porta a ricordare una grandissima crescita della fondazione Angelo Affinita Siamo vicini alla fondazione dalla nascita Vedere i numeri della fondazione in questi 18 anni non mi fa altro che essere sempre più convinto e sempre più deciso a far parte di questo gruppo Un suggerimento che va a tutti gli amici imprenditori che guarderanno questo video è di essere partecipi a chi già fa parte dei sostenitori della fondazione E a chi magari dubita sulla cosa di far parte di questa grande famiglia La fortezza che dà la fondazione sono cose che non si possono acquistare Sono cose che non si producono e cose che non troviamo da nessuna parte Siate partecipi e cerchiamo di essere sempre più numerosi per sostenere questa fondazione Angelo Affinita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti